Di ritorno da Chieri, dopo 3 a 1 ho due domande a casa da NIR, come hai visto questa vittoria dell'Imoco? Bene, loro veramente sono una brava squadra, questo palazzetto è sempre difficile giocare dentro, abbiamo trovato un modo di vincere, allora sono contenta ma c'è tanto lavoro di fare. Quindi prendiamo le cose positive, testa già alla finale di Supercoppa di Sabato Fono, prossimo a Livorno su Rai 2 contro? Monza! Milano, alle 17.30 al Palamo di Gliani, un saluto da... Ciao a tutti i tifosi, ci vediamo là!